ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di ephemeral miniature garden oggi dobbiamo cominciare l'episodio 12 con yugu siamo arrivate praticamente alla fine perché poi ci sarà insomma l'episodio 13 e avremo finalmente concluso la storia anche con lui nello scorso episodio grazie ad evan abbiamo appreso una verità sconvolgente cioè che in realtà le sirene possono essere facilmente comandate soprattutto dagli zombie quindi vediamo un po quello che scopriremo in questo nuovo episodio visto che evan non ha ancora finito di raccontare le cose che erano tenute segreta la realtà scioccante che evan mi ha rivelato ossia l'incredibile segreto nascosto dalla razza delle sirene evan tu mi stai dicendo che l'isolamento degli zombie è stato perpetrato dalle sirene esatto e poi gli zombie non hanno nessun motivo per dover essere isolati in realtà l'infezione che porta gli zombie a decadere può essere prevenuta con una medicina per di più lo stato ordina gli zombie di berlo ogni giorno tuttavia a meno che non ci siano casi eccezionali gli zombie non possono allontanarsi dalla zona di isolamento già tu che conosci bene le caratteristiche delle sirene hai già capito no questo è ciò di cui le sirene fortemente ossessionate dalla loro bellezza sono maggiormente terrorizzate non solo dagli zombie che guardano dall'alto al basso ma anche dai tritoni orribili e odiati loro hanno paura di essere sconfitte dalla bellezza travolgente posseduta da essi questa è la sconfitta assoluta esatto non si tratta solo di essere sconfitti si tratta di una sconfitta omiliante che le sirene arroganti non possono sopportare ma è impossibile non ci credi ma dovresti già averlo provato sul tuo corpo no quando sei con yugo non è doloroso non ti viene da scappare diciamo ovviamente la prima soffre vorrei scappare via sì è vero sì sì tranquilla non serve che dici bugie prova ad essere sincera e ci sono anche momenti in cui vorrei scappare per la sofferenza però non penso minimamente di volermi allontanare da lui dunque il fatto che tu soffri quando stai con yugo è dovuto al fatto che l'istinto ti fa sapere del pericolo tramite presagi legati alla sconfitta assoluta questi sintomi sono dei presagi in effetti ora che me lo dice potrebbe anche esserlo infatti mi sembra che iniziavo a stare male proprio quando guardavo i lati migliori di yugo se questi presagi escono fuori spesso tu dovresti separarti subito da yugo se continua così tra di voi nascerà una relazione come tra servo e padrona e finirei per diventare una bambola che fa qualunque cosa chiede a yugo ma come questo è sicuramente il futuro da cui voglio scappare anche perché se finissi così yugo stiamo ricordando quel momento in cui lui ci ha detto che odia tutti quelli che fanno le cose che lui gli ordina essendo interessato a te so che non ci sarà nulla da farci anche perché un giorno anche tu sarai come tutti gli altri eh farai tutto quello che dico e diventerai una bambola noiosa se diventassi così di sicuro lui si libererà facilmente di me ehi quando hai detto che se continuo a stare con yugo finirei per morire inavvertitamente cosa significava ah non ha chissà che significato profondo molto tempo fa c'è stata un aiutante a cui yugo ha detto mi sono stancato di te non mi servi più per la disperazione si è uccisa oddio perciò ti volevo solo dire che c'è anche questa possibilità era così quindi non so più che fare non voglio allontanarmi ma anche se resisto al dolore come sto facendo ora e continuo a stargli vicino cederei alla sconfitta assoluta e finirei per diventare una bambola noiosa e quindi non potremmo mai stare insieme a lui cosa posso fare non lo so però quelli che più non capisco siete voi due perché state cercando di separarci anche perché avevate già immaginato che sarebbe successo questo una volta che mi avreste portata qui no sapevate già che avrei assaporato la sconfitta assoluta e che avrei finito per obbedire ai tritoni però perché ci fate avvicinare e poi provate a separarci perché se non andasse a buon fine sarebbe un problema vogliamo che tu collabori ancora con noi collaborare tu sei stata spedita qui perché sei un buon soggetto di ricerca per fare degli esperimenti sei una sirena senza nessuno che anche se venisse isolata in un istituto nessuno direbbe mai nulla a rispettare tutti i requisiti sei solo tu eri aspetta ma di che esperimento parli oddio che è sta novità te ne ho parlato no la storia della maledizione lanciata su di voi sirene dal dio della creazione noi vogliamo chiarire questo aspetto questo istituto è un laboratorio pensato per questo questo non è un istituto pensato per salvaguardare i tritoni ok io sto rimanendo letteralmente sconvolta come hai sottolineato i tritoni sono in buona salute anche la medicina che distribuiamo è solo un integratore ogni cosa è un camuffamento che risulti come un istituto di salvaguardia inizialmente questa struttura era stata costruita per essere effettivamente un istituto di salvaguardia però il politico che l'aveva fondato è subito morto e prima di accorgersene era diventato un laboratorio comunque non pensi che ci sia qualcosa di bruciato non saprei si tratta di una cosa che è successa prima che nascessi cioè questa cosa è incredibile praticamente non siamo in un istituto ma in un laboratorio e loro stanno conducendo degli esperimenti oddio e poi dissolvere una maledizione è possibile non lo so la ricerca sarà molto molto lunga ma ci sono delle cose che abbiamo già capito tramite la ricerca i tritoni sono una razza molto interessante sebbene abbiano qualcosa che assomiglia alle sirene di base sono diversi e soprattutto in quasi tutti i soggetti target non era presente l'ossessione per la bellezza in passato avevamo portato qui un ragazzo zombie che era particolarmente bello anche fra gli zombie ma loro non avevano mostrato alcun sentimento di gelosia forse i tritoni sono più temperati delle sirene in effetti quando ho giocato nella sala giochi ho avuto questa sensazione tutti sembrano essere bambini innocenti però non era una buona tendenza per la ricerca che stavamo svolgendo anche perché noi stavamo analizzando l'assoluta sconfitta poi un giorno è accaduto un fatto yugo è arrivato qui dai continua che siamo curiosa nel momento in cui sento il nome di yugo mi blocco tutta con il carisma predominante di yugo tutto è cambiato nel piccolo giardino in cui regnavano equità e pace abbiamo cominciato a vedere una distorsione delle relazioni verticali e ovviamente yugo era al top in effetti è stato da quella volta che si è cominciato a trattare gli assistenti come dei giocattoli sì esatto che nostalgia moltissimi bambini si sono distrutti mentalmente e se ne sono andati non mi dirà mica che stiamo ricordando di nuovo ehi tu hai intenzione di diventare l'assistente esclusiva di qualcuno vero esclusiva ma potrebbe essere una buona idea se dovessi occuparti di tutti potrebbe essere una lotta alla fine in precedenza gli assistenti finivano per essere coinvolti e morivano così potresti vivere di più a ecco a cosa si riferiva quella frase lì che abbiamo ascoltato praticamente all'inizio quindi anche quello su chi combattevano è nato dopo l'arrivo di yugo ma grazie a yugo siamo riusciti ad ottenere moltissime informazioni evan comincia a sorridere facendo intravedere una certa insanità mentale adesso capisco il perché e infine sei comparsa tu come soggetto di ricerca non importa quanto tu possa essere una sirena ciò che vogliamo sono altri dati sulle sirene ho sempre voluto un soggetto di ricerca che fosse una sirena ma non è così facile che compaglia un soggetto conveniente come te sono stata scelta perché sono una persona odiata dal mondo e completamente sola io per loro sono davvero un soggetto di ricerca conveniente perciò eri non puoi romperti così presto vorrei verificare ulteriormente cosa può accadere mettendo una sirena e un tritone in contatto per questo puoi stare lontana da yugo ma no dai io sono sconvolta e poi vorremmo che svolgessi insieme a me e lulu la ricerca per sciogliere la maledizione oddio a io provo a dire assolutamente no insieme assolutamente no eri perché non capisci non è una cosa sfavorevole per te vuoi stare insieme a yugo per sempre senza che ti domini no allora devi resistere per riuscire a sciogliere la maledizione evan mi guarda e sospira ma smettila è inutile persuadermi mille volte tu dici ora ma se non sai neanche dirmi un limite temporale concreto eiri finalmente finalmente yugo ha mostrato interesse in me e ripenso a quello che è successo ieri quando ci siamo baciati dopo esserci separati da ashton siamo ritornati nella stanza di yugo domani vai dal professore esatto mi visiterà non è un po' improvvisa oppure l'avevi programmata già da tempo no me l'ha detto ieri mi ha detto domani vieni da me per la visita è raro che te lo dica il giorno prima beh non importa quindi hai fatto in modo che il professore avesse la precedenza su di me e non potevo si tratta della visita quindi non ci si può fare nulla solo non è molto divertente sono contenta yugo questo significa che pian piano ti stai fissando su di me dici davvero eiri ti dà fastidio essere al centro dell'attenzione di qualcuno certo che no anche perché questo qualcuno sei tu yugo e a questa mia risposta yugo mi abbraccia felice fine del ricordo yugo che non si era mai fissato su nessuno finalmente ha cominciato a vedermi è quindi impossibile che possa allontanarmi da lui se mi allontanassi ora yugo non mi guarderebbe più di sicuro se yugo si stanca di una cosa non ritornerà mai più su suoi passi anche evan dovrebbe capire che yugo è così ma purtroppo convincere eiri sembra ben difficile se è così allora dobbiamo supportarla in modo che non si rompa facilmente già beh anche se si rompe sarò in grado di raccogliere i dati della ricerca anche in seguito e diciamo che va bene cioè praticamente loro se moriamo viviamo non gliene può fregare meno se i superiori si arrabbiano io non la copro mica eh anche perché ad essere buttato è solo lei professore a me non succederà nulla mentre ascolto di sfuggita quello che si dicono improvvisamente evan si rivolge a me ehi eri non pensi che questo mondo sia interessante eh anche d'ora in poi le persone delle classi inferiori vivranno con la paura di quelle alte però se guardiamo dal mio punto di vista che non rientro in questa logica penso che le sirene che regnano all'apice siano spaventate dal fatto che tale verità si venga a sapere ehi chi pensi sia la persona più forte in questo mondo eh alla domanda di evan non riesco a dare una risposta sono i tritoni per caso se si tratta del top delle classi senza alcun dubbio persino in politica sono le sirene ma nel parlare di una persona forte non riesco più a rispondere con la sicurezza che avevo avuto fino a questo momento potremmo non essere noi sirene arrivata a quest'idea mi sento male faccio come sempre fatica a respirare e ho il collo e la schiena addoloranti coloro che in questo mondo sono forti un suono alla porta mi distoglie dai miei pensieri eccomi chi è alle parole di lulu la porta si apre lentamente e lì c'è ed eccolo lo sapevo sarebbe spuntato lui eri non hai ancora finito siccome è tardi sono venuto a prenderti una voce gentile e confortevole mi chiama e ok è finito così anche questo episodio che è stato molto più lungo rispetto agli altri e beh che dire wow anche questo è stato molto 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 intenso e abbiamo praticamente scoperto che noi siamo una sorta di cavia per degli esperimenti per degli studi scientifici e che questo in realtà non è un istituto vero e proprio ok mamma mia d'accordo chissà quindi cosa ci riserverà il tredicesimo ed ultimo episodio come finirà la storia con yugu sono proprio curiosissima di saperlo perché la storia con lui è quella più intrigata e particolare devo dire perché stiamo scoprendo tantissime cose fatemi sapere come sempre cosa ne pensate voi giù nei commenti spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciatemi un bel like vi ricordo anche di iscrivervi se non l'avete ancora fatto così non vi perderete i prossimi video noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao